e eccoci qua buon salve buon salve a tutti sono sempre io ancora qui solo soletto e niente si risale dobbiamo ritornare lui ha detto sinistra vediamo a sinistra dove ci porta ok sinistra infatti era mai dubitare di atreus sulle statue ok ok buongiorno atreus ben svegliato sulle statue ossia questo queste per me sono statue mamma non è questa cosa inumana già perché ho l'idea perché ho l'idea che baldur arriverà da un momento all'altro atreus servito questa è un'altra runa questo dovrebbe esserlo questo dovrebbe esserlo farò qualche incantissima incredibile da un'altra runa 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 quindi adesso quindi adesso si si va si va e basta che strada dobbiamo prendere ok ok un accaso totale perché tanto è da qui che noi entreremo a fare qualcosa quello che ho detto un sacco di volte che caricamenti questo è incredibile e invece nooo tanto Kratos è bravo a buttarsi dai posti ha una discreta esperienza cosa come una be so nauseous without a stomach come on that was great look the tower I knew there was something down there amazing how do you hide something that exists in all realms casted out of any realm to the space between clever old tier is your time on the other side can't be that it's not like you go through Vanaheim to reach the Midgard peak well how do we use it I'd suggest we look inside but stay alert tier's little challenges are never as simple as the APM I have noticed okay well this is boss the pedestal oh no it took the stone tower it's absorbing the stone's energy something's happening is it moving it's moving it knows what to do the stone set out its purpose we're fulfilling to your spell whatever's now no idea brother but after that fall I'm sure we're past the worst of it hmm mmmm ah che bellezza che puoi direzionarvi eh ma topo no eh ecco qua no è stato facile niente di complicato no ok quindi ti fa viaggiare per tutti i regni ok grande figata malattene ma che vuoi fare se poteva mai essere che non ce n'era un altro vado per i ball questi qua io li odio oh no vedo mattina e ieri sera madonna che bordello dai no no ma dove questo attacco non cbt reflame for the win ok 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 non con tutti ok ma ma a hell mamma che sono questi sono dei rompiballe però ma è quanto gli elfi a boffare le mazzate che devono fare a 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 mio dio wow 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 in realtà può essere molto divertente peccato che eri già morto malissimo intanto il troll mo' lo disintegriamo ma fai quello che vuoi a 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 l'ultimo regno che ho ancora nascosto non te lo fanno fare giustamente pronto ok ok a 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 bella figata e niente col serpente del mondo che ci guarda io vi do l'appuntamento al prossimo episodio che qua si va avanti e secondo me siamo verso la fine della storia di questo fantastico gioco a